a casella e allora ci siamo si aprono le gabbie partiti cavalli del premio San Giuseppe edizione 2023 pronti via subito shakerando esce dalle gabbie in maniera convinta e si porta al comando il patron Pepe, il favorito si sistema sulla sua tre quarti in terza con la giubba marrone troviamo Plotter a precedere Goldenas poi percorsi esterne Galoppa Azzardo in penultima posizione Enzo Rock che lascia in coda Morning Glory si procede così con i cavalli che hanno percorso già 500 metri sempre shakerando in vantaggio, il patron Pepe che galoppa ai suoi fianchi, in terza corsia c'è Goldenas, in quarta posizione all'interno troviamo Plotter poi sempre Azzardo che ha deciso di galoppare su una fascia più centrale della pista, in penultima posizione Enzo Rock ed ancora Morning Glory a completare il drappello dei partecipanti, posizioni cristallizzate così si è partiti e ancora non sono variate le posizioni sempre shakerando a dettare il ritmo con il patron Pepe che galoppa in seconda posizione guadagna qualcosina di dentro anche Plotter, poi Goldenas che galoppa in quarta, ancora Enzo Rock che affianca Azzardo leggermente sostenuto dal suo interprete e in coda, Morning Glory siamo a tre quarti della piegata, sempre shakerando senza indugiare in vantaggio il patron Pepe che comincia a mettere pressione al suo esterno poi Plotter che va di dentro Goldenas che si presenta al suo esterno, Enzo Rock Azzardo e Morning Glory siamo alle intersezioni delle piste con shakerando sempre davanti Goldenas che accarezza la possibilità di passare lo fa in poche battute in questo frangente è andato in difficoltà il patron Pepe con Goldenas sempre davanti adesso al centro della pista si presenta anche Morning Glory che con ampie folate si avvicina insieme a Azzardo gli altri che sono lontanissimi a 300 da traguardo Goldenas converge lungo la corda prova ad andare in continua percussione dall'esterno Azzardo e Morning Glory mettono pressione nel tratto conclusivo a 150 da traguardo Goldenas saldo in vantaggio Azzardo che rimane in quota per il secondo e Morning Glory per il terzo ma nel tratto conclusivo è solo gestione per Goldenas che vince bene il San Giuseppe secondo posto per Azzardo al terzo Morning Glory vince dunque Goldenas che colleziona così la seconda affermazione in carriera 2 e 50 la quota conclusiva ancora Dario Di Tocco che realizza un doppio i colori sono quelli di Fabrizio Cameli il training della Endo Galoppo Endo Botti Galoppo 4 al primo posto 1 Azzardo al secondo 5 Morning Glory al terzo questo è il risultato che va in archivio per il premio San Giuseppe qui il primo piano meritato per i figli di Goldenorth che vince molto bene e quindi